Ben trovati in appuntamento con dentro il Consiglio, il nostro settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana. Sono tre gli argomenti che affronteremo in questo nostro incontro. Il primo ci porta direttamente in aula perché è stata approvata con il Via Libera, la prima variazione di bilancio, il provvedimento passa maggioranza con 23 voti a favore e 12 contrari. Poi c'è la giornata dedicata alla Fondazione Monasterio, la Commissione regionale della sanità è andata in visita all'ospedale di Massa e Pisa e poi invece la Commissione bilancio e cultura con il garante dei detenuti è andato a visitare il carcere di Volterra. Il primo tema riguarda appunto il bilancio perché il Consiglio regionale della Toscana vara la prima variazione al bilancio di previsione finanziario 2023-2025. Annalità 2023 della Regione che è stata approvata con la legge regionale 46 del 2022, il provvedimento passa maggioranza con 23 voti a favore e 12 voti contrari. La nuova legge entra in vigore del giorno della pubblicazione sul bollettino ufficiale. Ascoltiamo anche il commento dei consiglieri preceduti dal Presidente della Regione Toscana. La gestione della sanità in Toscana è ottima, è una gestione da un punto di vista economico finanziario che fa tornare i conti anche se vorremmo più risorse dallo Stato perché per assumere medici, infermieri, acquistare tecnologie e materiali di avanguardia non bastano certo i 7 miliardi e 530 milioni del piano sanitario nazionale che si articola ai piani sanitari regionali. Ogni anno noi dobbiamo arrivare a mettere fra i 4 e i 500 milioni dal bilancio ordinario o comunque dalle risorse che la Regione si trova amministrati. Lo facciamo volentieri perché crediamo nella sanità pubblica ma insomma avremmo la necessità di avere più risorse dallo Stato centrale. Il Consiglio regionale ha approvato la prima variazione al bilancio di previsione del 2023. Una manovra importante anche se molto puntuale e riferita soltanto ad un aspetto cioè a quello del riequilibrio dei conti del servizio sanitario regionale. È nota a tutti che la sanità dopo la pandemia ha registrato forti perdite quindi c'è un impegno da molto tempo da parte della Regione Toscana come del resto da parte anche delle altre regioni italiane a recuperare risorse. Con questa variazione si fa proprio quest'operazione. Si vanno a recuperare una serie di risorse dai fondi di riserva e anche dalle somme che erano state poste a garanzia dei debiti che erano stati contratti dagli enti del servizio sanitario nei confronti di cassa depositi e prestiti e coperti dalla garanzia della Regione attraverso le lettere di patronage per un recupero che si avvicina ai 47 milioni di euro. 46,92 milioni di euro. Queste risorse recuperate dagli accantonamenti e dalle riserve vengono oggi destinate al servizio sanitario regionale. Una misura importante, necessaria e che dimostra come la Regione stia con senso di responsabilità affrontando il tema dei costi della sanità per continuare a garantire i servizi ai cittadini. Oggi queste risorse vengono trovate e la sanità dimostra ancora una volta a fatica quello è vero ma di trovare un equilibrio sostanziale dei propri conti ma questo lo trova perché ovviamente eroga un livello di servizio molto alto, un livello di qualità che deve migliorare soprattutto rispetto all'assistenza dei territori e ad alcune risposte rispetto alle liste di attese e su un efficientamento del sistema dell'emergenza e urgenza, un'integrazione massima da fare con il sistema del volontariato. Su questo continueremo a lavorare come terra viva ma intanto soddisfazione di una maggioranza che trova la compattezza in questa manovra di bilancio. Sostanzialmente si continua a navigare a vista e ci sono difficoltà, lo sappiamo, per quanto riguarda i ricorsi delle aziende farmaceutiche per i payback sanitari. Sono state messe a credito, vedremo se riusciremo a incassare tutte le cifre che sono state messe a bilancio nello scorso anno. La preoccupazione è permanente, manca la programmazione, manca la strategia, abbiamo necessità di far ripartire la nostra regione, invece vediamo il PD sempre più buttarsi a sinistra e anche su temi che riteniamo fondamentali come il federalismo e il regionalismo differenziato in realtà si fa più politica che è veramente confronto tra le parti. Noi ci siamo, ci siamo per sostenere la sanità pubblica, lo diciamo senza dubbi e con determinazione. Quindi abbiamo votato contro per una scelta di natura politica perché non cambiano purtroppo le cose per i toscani. Il fatto che un'intera variazione di bilancio debba essere dedicata alla sanità fa capire quanto sia in affanno in questo momento il sistema toscano e si può invocare naturalmente quelle che sono le criticità che si sono acuite con il covid, però rimangono, permangono a distanza di tempo e anzi si sono aggravate molte criticità che il sistema sanitario toscano già aveva e a questo si deve far fronte quindi con degli interventi straordinari e poco importa che in questo momento e solo in questo momento la giunta regionale invochi un intervento del governo perché questa attività poteva essere invocata per esempio nelle medesime circostanze negli anni scorsi quando invece pur trovandosi in affanno come oggi si è guardata bene dal fare in quanto era al governo e soprattutto considerando che dal 1970 la sanità toscana con i suoi vari buchi, scandali, numero di primari assolutamente in sovrannumero rispetto ai posti letto, problema di personale, di os, la vita indipendente, il cup che ancora non funziona corte dei conti che scrive centinaia di pagine per attaccare il sistema di gestione delle liste d'attesa vedere adesso che si devono fare degli stanziamenti straordinari significa soltanto una cosa unita a quello che ho elencato prima, che c'è una mancanza di capacità di programmazione e di organizzazione e questo qui naturalmente si riflette anche sugli aspetti finanziari. Voi pensate che in Toscana ci sono circa 2000 primari, c'è un primario ogni 10 posti letto, un primario ogni 10 posti letto quindi quando l'assessore Bezzini e il presidente Gianni chiedono più soldi, noi vorremmo sapere più soldi per fare cosa? Per fare il 2000esimo primario, per aumentare ancora un posto di governo dentro la sanità o per fornire più prestazioni come in realtà non vengono fornite? Questa è la domanda che facciamo e le domande a cui vogliono avere risposta i nostri cittadini che non riescono ad accedere alle liste d'attesa Naturalmente è una valutazione negativa anche perché è ormai certificato che noi abbiamo un deficit strutturale di mezzo miliardo di euro, un deficit che noi possiamo provare a ripianare in tutti i modi ma se non ci mettiamo in testa di attivare una programmazione lungimirante, seria noi non riusciamo a uscire da questa situazione assolutamente critica La Giunta oggi per l'ennesima volta ci presenta appunto un intervento sul bilancio di nuovo a tamponare una situazione io ricordo che dal 2021 ormai siamo a 203 milioni di euro che noi abbiamo messo in una situazione sanitaria sulla quale ancora non si riesce a capire che cosa realmente voglia fare la Regione Io credo che qualsiasi appello che viene fatto a maggiori risorse dal governo, seppur legittimo naturalmente non può però determinare un nuovo a montare di risorse destinate alla Toscana che però non vengano diciamo destinate nel modo giusto, quindi incanalate con una programmazione lungimirante Questo in due anni e mezzo noi non lo abbiamo visto e il rischio è che davvero a chi verrà dopo si lasci in eredità una situazione contabile assolutamente pesante Usciamo invece dalla sede del Consiglio regionale Palazzo del Pegaso in via Cavour 4 a Firenze e ci spostiamo invece insieme alle commissioni in altri luoghi in modo particolare a Massa e Pisa perché c'è stata una giornata dedicata alla Fondazione Monasterio la Commissione Sanità del Consiglio regionale, ha visitato quindi la sede di Massa e Pisa perché la Fondazione Monasterio, lo ricordiamo, è un ospedale di ricerca del servizio sanitario regionale ente pubblico specialistico, secondo quanto è stato previsto da una legge, quella regionale del 1985 del 2009 la Fondazione è stata istituita dal Consiglio nazionale delle ricerche e dalla Regione Toscana per la gestione e lo sviluppo delle attività sanitarie specialistiche di ricerca medica, di sanità pubblica svolte proprio dall'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR quindi è un centro di alta specialità per la cura delle patologie cardiovascolari e polmonari comprese le patologie rare di interesse specifico parte della commissione l'abbiamo incontrata proprio fuori dalla sede di Pisa Si chiude qui nella sede di Pisa, stamani sono stati all'ospedale del Cuore di Massa sono contento che si chiude qui perché è da dove tutto è partito, da dove è nata l'idea del professor Donato che poi questa idea è cresciuta e esplosa qui a Pisa hanno potuto vedere tutta la nostra piastra diagnostica la nostra TAC a photon counting che è la prima nel sud di Europa la seconda in Europa nel mondo dedicata interamente alla cardiologia hanno potuto vedere da vicino tutte le attività ultra specialistiche che vengono fatte anche la cartella clinica elettronica apprezzandola veramente fino a un fondo e poi si è concluso con un evento non previsto la testimonianza di un paziente un paziente che ormai ci segue da più di vent'anni e che ha voluto testimoniare alla terza commissione la qualità del servizio che riceve presso il nostro ospedale La visita rientra nell'ambito delle visite che stiamo facendo dei presidi sanitari e delle aziende del sistema sanitario regionale questa visita conferma l'idea che avevamo cioè la fondazione Monasterio è un'eccellenza per la Toscana e per il paese perché grazie all'idea illuminata del professor Donato siamo riusciti con questa fondazione a mettere insieme la ricerca alto livello di ricerca e di competenze scientifiche alla clinica e questa è una combinazione assolutamente vincente la sanità, l'alta qualità della sanità del futuro si ha laddove si ha ricerca, personale motivato e capacità di trasferire immediatamente la ricerca alla clinica è questo che si fa alla Monasterio e questo è un esempio di quello che dobbiamo fare anche in altre parti ovviamente del sistema sanitario regionale Sono rimasto positivamente impressionato dalla competenza e della preparazione non soltanto medica degli specialisti ma anche dei mezzi con i quali si approcciano al paziente per cui per la Toscana questo è sicuramente un grande istituto bisogna contestualizzarlo nell'ambito della sanità toscana che purtroppo ha tante altre pecche Rimaniamo ancora nel territorio della provincia di Pisa perché continuano le visite della commissione del bilancio dell'Assemblea legislativa del garante regionale alle carceri della Toscana per indagare su quelle che sono le emergenze del sistema penitenziario in costante peggioramento la qualità della vita, una scarsa capacità formativa e di istruzione elevati i costi del sistema, necessità di doni e strumenti di integrazione ma sono andate appunto sia la commissione bilancio che quella della cultura a visitare l'istituto penitenziario di Volterra che è un carcere che si differenzia dagli altri perché è aperto alla città, dentro una città che è aperta al carcere tante le attività da quella teatrale che vanta ormai da 35 anni insomma la compagnia della fortezza è veramente molto conosciuta appunto ancora l'attività scolastica con i corsi che vanno dall'alfabetizzazione l'alfabetizzazione primaria insomma fino ai corsi universitari tante possibilità professionali e lavorativi offerte all'interno della struttura anche una biblioteca e una palestra con spazi polifunzionali dedicati alla socialità Questa è la terza tappa che la prima commissione fa nella visita degli istituti di pena della regione toscana devo dire tre realtà tra loro profondamente diverse anche se Volterra per certi aspetti richiama molto l'esperienza del carcere di massa dove si è molto sviluppato l'impegno lavorativo da parte dei detenuti anche all'interno del carcere stesso con un'importante produzione in ambito tessile Solliciano è una realtà invece profondamente diversa una realtà dove effettivamente c'è una popolazione carceraria molto vasta dove le condizioni sono indubbiamente più difficili e anche più ingestibili di quelle che si possono avere in istituti di pena più piccoli come quello di Volterra o anche quello di massa ed è un istituto quello di Solliciano sul quale vale la pena concentrare gli sforzi da parte di tutte le autorità competenti perché è vero il sistema carcerario è un sistema nel quale vengono costrette nella loro libertà le persone ma è anche un luogo dove i diritti della persona comunque devono rimanere per certi aspetti inalterati e quindi credo che esperienze più complesse come quelle di Solliciano meritino un'attenzione maggiore nonostante gli sforzi che la direzione e tutto il personale all'interno di quell'istituto quotidianamente facciano affinché le cose possano andare comunque per il meglio Un'esperienza molto significativa quella che ho potuto fare come presidente della prima commissione del Consiglio regionale oggi al carcere di Volterra Un'esperienza inusuale perché Volterra ci offre una testimonianza della vita detentiva del tutto diversa da quella che si può riscontrare in altri istituti della nostra regione Qui c'è una concezione del detenuto che vede innanzitutto l'individuo con i propri diritti con la propria personalità e anche con quel bisogno di rieducazione che è insito anche nella detenzione È un luogo, il carcere di Volterra, dove si sviluppano moltissime attività collaterali prima tra tutte quella splendida dell'esperienza teatrale che è un modo non soltanto per rieducare i detenuti ma è soprattutto un modo per favorire la cultura anche in quest'istituto, in una città che è stata anche la capitale della cultura e che ancora oggi ci dimostra come si possa fare cultura anche in un istituto di pena Un vero e proprio sollievo anche per chi rappresenta le istituzioni vivere questa esperienza all'interno di un carcere che ha molto da insegnare a tutto il sistema carcerario italiano Devo dire che appena usciti dalla casa di detenzione di Volterra le impressioni e le emozioni sono molte Siamo di fronte a un'esperienza carceraria senz'altro singolare, di grande livello c'è le singole, un buon clima tra detenuti e personale di sorveglianza con delle esperienze straordinarie che sono soltanto qua come l'esperienza della Compagnia della Fortezza e il lavoro del teatro in carcere che si fa in tante carceri toscane ma che qui ha una punta di eccellenza che ha valso al regista Armando Punzo ideatore, promotore da 35 anni di questo bellissimo laboratorio sull'uomo come lo chiama lui il leone d'oro alla carriera che gli verrà consegnato a Venezia il prossimo 17 giugno Devo dire che abbiamo queste esperienze di visita nei carceri sono esperienze di grande umanità e anche di scoperta di che cosa è e quanto lavoro richiede a livello organizzativo a livello anche di disponibilità emotiva del personale coinvolto quindi devo dire che il carcere di Volterra potrebbe tranquillamente essere un modello di detenzione con finalità trattamentali ed educative di altissimo livello vorremmo che fossero tutti così, non solo in Toscana ma anche in Italia purtroppo lo sappiamo che non è così, intanto siamo grati per questa bella esperienza che comunque ha bisogno di cura, di assistenza, di organizzazione, di logistica come tutta la dimensione carceraria anche nella nostra regione che ha queste punte di eccellenza E per questo nostro appuntamento con Dentro il Consiglio è tutto vi ricordo per gli aggiornamenti e gli approfondimenti il sito www.inconsiglio.it grazie per averci scelto e seguito, vi aspetto fra sette giorni sempre qua, Dentro il Consiglio Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti